Il 26 e 27 novembre fai un dono che ti dona. Un panettone per la vita è l'iniziativa che l'Admo, associazione donatori mi do l'osseo, porta nelle piazze italiane. Sono tanti i giovani che come te colano un sogno. Per qualcuno questo sogno si chiama speranza. Radioattività e Basket for Trieste scendono in campo al fianco dell'Admo. Scegli di regalare un panettone speciale, un piccolo gesto che accenda quella speranza. Admo, insieme per vincere, insieme per la vita. Da sabato 26 e domenica 27 novembre vieni a trovarci in via San Nicolò. Grazie a tutti.